Ciao a tutti, oggi volevo fare un video per parlarvi un po' degli stampi volevo farvi vedere gli stampi che ho acquistato io nel corso della mia esperienza con le paste modellabili sia quelle che asciugano all'aria sia il fimo e volevo dirvi la mia opinione sugli stampi e parlare un po' in generale degli stampi, di come si utilizzano e della varia tipologia di stampi quando io ho iniziato a lavorare con il fimo si iniziano a vedere alcune ragazze, soprattutto sui forum che avevano acquistato questi stampi dal Giappone c'era questa pasta che asciuga all'aria, che è la FUA per questa pasta erano stati fatti una serie di stampi e quindi c'era un po' la corsa a comprare questi stampi dal Giappone io li avevo acquistati su un sito che si occupa di import-export dal Giappone vi metto il link sotto, penso che si chiami J-Box una cosa del genere, adesso lo vado a ricercare perché li ho ordinati alcuni anni fa in questo sito vendono oggetti importati dal Giappone li vendono in tutto il mondo quindi ci sono sia i manga, gli anime tutto il merchandising relativo ai fumetti e poi ci sono accessori per la cucina per il bento, per il sushi, vestiti anche ci sono delle cose da mangiare ci sono gli snack tipici giapponesi e nella sezione giochi c'è anche questa pasta la FUA con l'altra pasta gli stampi più piccoli nei boxettini più piccoli che in realtà sono pasta per creare delle gommine e che si asciugano in microonde e c'erano questi stampi abbinati perché in realtà poi la FUA è un giocattolo in Giappone per le ragazzine di 11-12 anni e io avevo acquistato uno dei box grandi della FUA e due box piccoli di quelli delle gommine non ho più i box perché li avevo buttati via ma adesso vi faccio vedere gli stampi che avevo preso questi erano quelli piccoli quelli delle gommine ci sono questi che erano fatti con i dolcetti cioccolatini la pasta si metteva qua all'interno si andava a chiudere a far combacciare i vari spigoli si premeva e doveva venire fuori il cioccolatino c'è il cuore c'è la girandola qua il cioccolatino a girandola c'è l'altro cioccolatino e qua ci sono delle decorazioni per i cioccolatini c'è la rosellina questo penso che sia una mandorla qui un'altra nocciola da mettere sopra c'è il cioccolatino con scritto chocolate non so se si vede bene sto usando la webcam e questi invece erano quelli dei gelati c'era il gelato la panna gelato c'era il biscotto cookie quest'altra che è la cialdina c'è il gelato quello l'avrete visto tante volte negli stampi la base qua e anche questo si utilizzava nel solito modo si facevano combacciare gli angoli e doveva venire fuori la creazione e questi sono quelli dei kit piccoli quelli che sono considerati kit piccoli comunque vengono rivenduti non c'è bisogno di importarli dal Giappone o comunque andare in un sito dove li importano dal Giappone per forza ci sono anche alcuni forum come Make Your Style che ogni tanto fanno di questi ordini dal Giappone e potete ordinare anche lì questi kit ci sono questi qua piccoli ci sono quelli medi questi sono sempre per del gommino come avevo già detto quelli medi della FUA e quelli grandi della FUA io avevo acquistato uno grande della FUA che adesso non ho più la scatola quindi non lo so ma era quello che conteneva questo che sarebbe non so come si chiamano queste cose qua ma la fanno anche per il pongo quello che si inserisce la pasta qua e si spinge e qua sotto ci sono i vari stencil delle forme con cui far uscire la pasta è molto carino se non fosse che questo è un discorso che vi farò dopo dell'utilizzo del fimo con questi stampi comunque qua sotto c'è la stellina ci sono varie forme il cubo, il triangolo, il cerchio e qua ci sono gli stencil nascosti con cui far uscire la pasta ci sono varie forme e appunto si inserisce la pasta e si spinge ci sono quelli anche appositi per il fimo che sono in metallo e si spinge e la pasta esce sempre all'interno di questo kit c'erano alcuni stampini penso che me ne manchi uno adesso qua mi manca quello con scritto biscuits che non so più dove sia perché sono comunque stampi che non uso più da un bel po' c'è questo che fa praticamente la base del cupcake è un po' grosso c'è questo che è praticamente l'omino la mascotte di questa marca qua della FUA è un omino non so cosa si sembra un omino e qua c'erano varie decorazioni c'è la fogliolina un pezzo di frutta e poi c'era questo uguale con la scritta biscuits fatto a biscotto che in questo momento non ho qui poi vabbè c'era questa rotellina qua che doveva tagliare la pasta questi kit sono fatti e pensati per delle paste che non sono il fimo infatti come provate ad andare a usare uno di questi qua con il fimo vedrete subito che non è facile utilizzarli ci sono gli stampi appositi per il fimo dovrebbero essere molli per esempio ho questo che è proprio della marca del fimo ed è in silicone molle qui c'ha i disegni di Natale a Babbo Natale le stelline la renna e sono simpatici carini e facili da usare mentre questi sono fatti per paste che asciugano in modo diverso dal fimo e sono anche meno dure da lavorare che il fimo per esempio la fua è una pasta che asciuga all'aria è mollissima è come la pasta panna e infatti utilizzare questi stampi con il fimo non è semplice perché come è andata a inserire il fimo negli stampi vi rimane appiccicato non si stacca più dalla formina e quindi dovete andare a fare leva sotto e vi si deforma la creazione non riuscite a fare bene il gioco di mettere la pasta a premere e quando esce escono le due parti unite belle perfette cosa che con la fua si riesce a fare ma con il fimo no perché rimane attaccato in più il fimo a lungo andare corrode la plastica e quindi bisogna anche utilizzare una certa attenzione nell'utilizzare questi stampi vanno sempre lavati perché appunto c'è questo problema che il fimo a un certo punto corrode la plastica per riuscire a utilizzare un po' meglio questi stampi bisogna o utilizzare un po' di borotalco ma io preferisco utilizzare un po' d'acqua spennellare un po' d'acqua dentro lo stampo e andare a inserire il fimo questo è uno dei metodi utilizzati per riuscire a utilizzare questi stampi qua ma in realtà io vi sconsiglio di andarli ad acquistare io infatti non li uso quasi più perché faccio molta fatica a usarli oppure li uso con le paste che asciugano all'aria proprio perché si fa veramente fatica a mantenere la creazione bella e integra e alla fine si mette più tempo a utilizzare questi stampi con tutti gli accorgimenti che servono acqua borotalco e lava gli stampi e asciuga gli stampi e ammorbidisci molto la pasta per riuscire a utilizzarli alla fine uno faceva prima a farlo da solo penso che per fare un cuoricino potevi farlo anche da te invece che usare gli stampi o fare questo con scritto chocolate uno può provare a farlo da solo scrivendo chocolate lui o anche questo qua è praticamente un un dolcetto con due righe orizzontali non è che siano queste cose complicatissime oppure ci sono moltissime creative o comunque anche sia sul forum di make your style c'è anche l'altra ragazza che ha il canale qua su youtube che si chiama orchideina che vendono questi stessi stampi non proprio stessi ma lo stesso soggetto realizzato però con il silicone sono stampi uguali sempre con scritto cookie sono questi qua che vengono dalla fua ma sono stati probabilmente è stata fatta la creazione e dalla creazione è derivato lo stampo in silicone e sono stampi più morbidi e sono più utilizzabili per il fimo questo qua per esempio non si riesce ad utilizzare neanche questo per il fimo la pasta rimane tutta attaccata qua come vedete è rimasta tutta attaccata il marrone e anche qua dentro e non si riesce più a pulire praticamente perché sono angoli a cui non si riesce ad arrivare e alla fine la pasta non esce perché è troppo dura e infatti molte creative fanno anche fatica a utilizzare quello proprio del fimo che è fatto in metallo è molto duro il fimo e quindi c'è da spingere molto questo essendo anche di plastica non fa la pressione necessaria per far uscire la pasta o per fare comunque qualcosa di decente quindi è praticamente rimasto inutilizzato ho provato una volta o due e poi è rimasto inutilizzato non l'ho utilizzato neanche con le paste che asciugano all'aria o con la pasta panna forse dovrei provare però non lo consiglierei per chi lavora al fimo invece come vi dicevo ci sono questi siti dove si possono trovare questi stampi che sono in silicone quindi sono morbidi e sono molto 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 meglio per il fimo questi qua per esempio sono stati fatti da me e con quella pasta che vi avevo anche fatto vedere che avevo messo anche in un contest che anche questa viene dal Giappone serve apposta per creare gli stampi la si mette a bagno nell'acqua bollente si fa bollere l'acqua si mette questa pasta che è fatta in panetti e una volta che l'acqua bolle vedrete che la pasta è diventata molle ci andate a inserire qualsiasi cosa voi volete crearci lo stampo per esempio qua sono le note musicali avevo un ciondolo a note musicali ci ho fatto lo stampo e l'ho lasciato asciugare quando non volete più questo stampo qua perché ne volete un altro o non vi interessa più il soggetto lo andate a rinserire nell'acqua bollente questo tornerà a essere morbido e riuscirete a fare di nuovo il vostro stampo e qua avevo fatto i vari tipi sempre con i tappini vi avevo fatto vedere anche il tutorial i tappini delle delle creme per fare le base dei cupcake questa è più grossa e questa è più piccolina qui c'è appunto le note che vi dicevo questo è un fiocchetto e questo è un gattino e poi ci sono questa serie di stampi che sono quelli che utilizzo di più in tutto questi li ho acquistati da Orchideina forse un paio d'anni fa un anno e mezzo fa non mi ricordo bene tra l'altro saluto Orchideina e sono in silicone e sicuramente sono molto più utilizzabili per il fimo qua c'è la ciambellina quella con le scanalature c'è il cuoricino con scritto for you c'è il cuoricino con scritto love cioccolatini e c'è l'oreo piccolino sul sito di make your style ho comprato invece questo biscotto questi sono ancora più morbidi e il biscotto a cuore il ciuffettino di panna piccolo e la nota poi questi qua invece sono stati acquistati su Etsy che è un altro sito dove si possono acquistare materiale creativo fatto principalmente a mano sono delle creative che fanno questi stampi non sono acquistabili in negozio su Etsy è un sito inglese principalmente si parla in inglese ma importa e esporta materiale da tutto il mondo penso che questi siano arrivati dall'America America o Canada per questi qua blu mi ha beccato la dogana quindi ho dovuto pagare per doganare il pacco questi qua invece no perché anche lì la dogana dipende da come se vi prende o no se vi becca o no questo sarebbe una specie di forse ve li avevo già fatti vedere anche negli ultimi acquisti questo è una specie di vassoietto andate a fare lo stampo di un vassoio per metterci sopra i dolcetti o le varie cose per la colazione il piattino è molto carino ci sono molti particolari questa è la testa di Barbie che non ho ancora utilizzato ma mi mi curiosiva utilizzarla ho visto che anche la Tarina Tarantino la designer di gioielli ho fatto una serie di gioielli con Barbie con la testa di Barbie e le immagini di Barbie e allora ho pensato di prenderla e questa è una nota musicale e questo è un cabochon piccolino con una rosa questi invece sono acquistati da un'altra ragazza comunque vi metto tutti i link sotto e sono come se fosse come ve li avevo già fatti vedere sono ciambelline una grande e una più piccola gattini la barretta di cioccolato che è questo e anche questo che è il croissant si vendono anche sul sito di Make Your Style ce l'hanno e le caramelle una grande una piccola questi qua sono sicuramente molto più utilizzabili con il fimo anche questi qua è meglio utilizzare comunque un po' di borotalco o una spennellata d'acqua io preferisco sempre la spennellata d'acqua in questi stampi qua invece sul ripiano per mettere meglio un po' di borotalco ma per gli stampi è meglio un po' d'acqua spennellate un pochino d'acqua nello stampo vedrete che il fimo si stacca molto facilmente la creazione non si deforma io vi sconsiglio di andare ad acquistare questi stampi della FUA questi qua per le gombine perché potete trovare delle creative anche italiane quindi che non sono soggette alla dogana che realizzano questi stessi stampi con materiali più adatti per il fimo vi rimando ai link sotto il forum di Make Your Style Cerchi De Ina vi direi anche Ezi però anche Ezi importando dall'America spendendo dall'America potete incorrere nella dogana quindi ci sono tantissime creative italiane direi di rifornirvi da loro per stare più sicuri ci sono poi come vi ho fatto vedere quelli proprio del fimo che ovviamente non sono carini come questi qua con i dolcetti però per esempio questo qua di Natale è molto carino c'è Babbo Natale c'è anche l'angioletto e ne ha fatti diversi c'è anche quello per le nascite dei bambini per le bomboniere per il matrimonio eccetera hanno dei soggetti più standard mentre qua potete trovare tutto quello che volete praticamente adesso che vi ho fatto vedere tutti i miei stampi in fimo e magari vi ho anche annoiato e volevo parlarvi un po' della mia opinione riguardo agli stampi poi se qualcun altro ha un'altra opinione può lasciare un video risposta o dire la propria sotto questo video senza problemi allora ci sono molte creative che criticano quelli che usano gli stampi perché non è vera creatività perché usare gli stampi sono buoni tutti perché non non crei niente di tuo ma questi stampi li possono utilizzare tutti allora in internet si arrivano a vedere creazioni tutte uguali perché poi con i dolcetti cosa vuoi farci fai sempre gli stessi orecchini sempre gli stessi braccialetti e allora molte creative criticano l'utilizzo di questi stampi preferiscono fare le creazioni da loro allora devo dire che io gli stampi non li uso molto spesso li utilizzo soprattutto per le creazioni quelle in serie per esempio se ho un mercatino faccio qualche braccialetto con i dolcetti che dovendoci stare a meno tempo riesco a venderlo a meno tutto un braccialetto lavorato e fatto a mano che magari ci sono volute delle ore per fare tutti i ciondolini sicuramente lo faccio costare di più che un braccialetto che ci ho messo due minuti a fare gli stampini magari faccio pagare il materiale e un euro non so di di lavoro mio invece se devo farlo io fare tutti i ciondolini a mano e di sicuro la mia mano d'opera la faccio costare molto di più quindi io penso che questi stampi siano utili principalmente a chi inizia e magari deve prendere la mano con questa pasta deve imparare a conoscerla imparare a ammorbidirla imparare a conoscerla a consistenza e utilizzare questi stampi può essere d'aiuto ovviamente dopo ci dovrà essere un lavoro sotto maggiore del creativo per affinare le proprie tecniche e imparare realizzare le cose anche da solo e poi sono utili magari per i creativi che vogliono fare delle creazioni più veloci o più alla portata di tutti per i mercatini o anche per venderle online perché comunque anche utilizzando gli stampi uno può metterci un po' del suo nella creazione del braccialo della collana o degli orecchini con magari dei dettagli diversi rispetto a un altro però sì condivido il fatto che a un certo punto le creazioni poi siano tutte uguali con non so un biscottino così o una ciambellina fatta nello stesso modo i colori del film sono sempre quelli alla fine non c'è la differenza tra una creativa e l'altra utilizzando questi stampi quindi direi che se uno vuole differenziarsi oltre a questi utilizzi anche il proprio ingegno personale o la propria creatività con magari abbinare una creazione di queste con qualcosa fatto di proprio di propria creatività con la propria creatività e niente se qualcuno ha qualche altra opinione in merito agli stampi se sia eticamente o non eticamente giusto utilizzare gli stampi nelle creazioni può lasciare un commento qua sotto o anche un video risposta che dopo comparirà tre video risposta e niente questo video era un po' un video parlato così forse è venuto anche un po' troppo lungo però niente ci tenevo a farvi questa carrellata sui miei stampi e a darvi qualche consiglio su quanto ho appreso io sugli stampi e con l'esperienza che ho avuto io con gli stampi ultimamente sto creando poco perché abbiamo finito il mercatino la scorsa settimana e è stato abbastanza pesante proprio perché non c'è stato neanche un bellissimo tempo la prima sera alle 9 e mezzo abbiamo dovuto staccare perché cominciava a piovere poi gli altri giorni sono stati il secondo giorno è stato un po' freddo e gli altri due giorni è andata abbastanza bene e poi c'è da dire che adesso invece è venuto fuori il caldo e lavorare il fimo diventa un po' difficile quando c'è caldo perché si si appiccica molto alle mani diventa molto molle infatti adesso sto utilizzando molto le paste che asciugano all'aria infatti il prossimo video che faccio vi farò vedere una pasta che ho acquistato recentemente che anche questa è importata da Giappone io l'ho acquistata in Italia comunque ve ne parlerò nel prossimo video che è una pasta che asciuga all'aria e niente allora al prossimo video ciao ciao